Il Congresso degli Stati Uniti raggiunge l'accordo di massima che pone fine a due anni di crisi sul budget federale. Repubblicani e democratici che controllano rispettivamente Camera e Senato hanno raggiunto il compromesso su un pacchetto di misure che metterà a riparo lo Stato federale da un nuovo shutdown. Credo che questo accordo rappresenti un vero passo in avanti. Ci assicura che non avremo una nuova paralisi del servizio pubblico in gennaio, ci assicura che non ne avremo un'altra in ottobre, ci assicura che non passeremo da una crisi all'altra, detto il repubblicano Paul Ryan affiancato da party Murray, senatrice democratica con la quale ha condotto i complessi negoziati. In ottobre il mancato accordo sul budget aveva causato il primo blocco dei servizi federali dal 1996. Obama si è congratulato per l'intesa bipartisan che sarà votata dalla Camera venerdì e dal Senato la prossima settimana.